C'era una volta un piccolo paese, nel piccolo paese c'era un piccolo presidente, il piccolo presidente aveva un grande problema, perdeva i capelli, cioè nel piccolo paese c'erano tanti grandi problemi, per esempio la scuola andava a puttane, gli ospedali andavano a puttane, il lavoro andava a puttane, pure il piccolo presidente andava a puttane, però ci andava perché si sentiva solo, perché voleva essere amato, la mattina quando si svegliava il piccolo presidente verrava che sul cuscino era rimasto un mucchietto dei suoi capelli che lo salutavano per sempre e questo lo faceva stare male, malissimo, una volta addirittura si toccò la testa e sentì che c'era la chierica dietro, gli mancava proprio un ciuffo di capelli, così decreazione d'urgenza, per legge vietò che lo fotografassero di spalle, poi però perdeva i capelli pure davanti e alla fine vietò per legge che lo fotografassero, punto, né davanti né di dietro, dire che una volta il piccolo presidente era anche molto vanitoso, però l'idea che lo guardassero senza capelli lo faceva stare male, malissimo, però inevitabilmente qualcuno la testa gliela guardava lo stesso, mica perché guardavano lui, ma perché guardavano un uccello che parlava del cielo, un albero, una parazzina, così allora decreazione d'urgenza, per legge vietò l'esistenza di qualsiasi soggetto che fosse superiore alla sua statura e questo fu un grande problema, perché il piccolo residente non era solamente pelato, era pure nano, un nano pelato, perciò tutto era più alto di lui, ma lui fece sta legge che tutto doveva essere abbattuto, tutto ciò che era superiore alla sua statura, difatti tutto venne abbattuto, le case vennero abbattute, le parazzine, rimasero solamente semi interrati, vennero tagliati gli alberi, rimasero solamente piante, le parate e le fragole, vennero uccisi gli uccelli, rimasero solamente galline, ecco, finalmente adesso il piccolo presidente aveva risolto il suo problema, però l'aveva risolto solamente nel piccolo paese, perché mica poteva fare le leggi che venevano pure per l'estero, infatti il piccolo presidente tutte le volte che andava all'estero ricominciavano a fotografarlo di spalle, gli guardavano la testa pelata, lui si sentiva preso in giro, era mortificato, allora pensò che quando andava all'estero si poteva mettere in cappello, ma il cappello gli faceva venire bolle, allora pensò a una bandana, ecco, la bandana, però la bandana gli faceva venire le squame, allora provò col parrucchino, col parrucone, provò con l'asfalto, col porfido, provò con la moquette, col parquet, niente, niente, la sua testa sembrava fosse stata creata per essere una palla completamente pelata, allora qualcuno gli disse, Presidente, provi con la corona, la corona era una bella idea, perché la corona fa respirare la cute, insomma, non fa male alla testa e poi una corona, se è una bella corona, tutti guardano la corona, non stanno a guardare la testa pelata che ci sta sotto, però c'era un impedimento, un grave problema, perché questo piccolo paese, per quanto fosse governato da governanti mafiosi e corrotti, però era una democrazia, una Repubblica, allora il piccolo Presidente decise di trasformare quella piccola Repubblica in una monarchia assoluta, la prima legge che fece fu quella di far rientrare i capitali dall'estero, soldi sporchi, mafiosi, li fece rientrare perché gli servivano tanti danari, tanti soldi e poi dopo si comprò la stampa, poi si comprò anche le televisioni, poi tolse la libertà di stampa, pure se i giornali erano tutti suoi, ma insomma proprio per andare fino in fondo, ormai era scoppiata la guerra civile, allora ovviamente aveva commesso qualche reato, qualche peccatuccio, si depenalizzò i reati che aveva commesso, poi ne aveva commessi talmente tanti che alla fine si fece una legge per sé, per la sua cricca che qualsiasi reato commettevano non venivano processati, niente proprio, tanto meno finivano in galera, ormai era praticamente una monarchia, mancava solamente le ronde fasciste e le leggi razziali, ora il piccolo paese era diventato una monarchia assoluta e finalmente lui il piccolo precedente poteva mettersi la corona in testa, si era mise e si guardò lo specchio, aveva un dubbio, pensò ma io la corona me la metto perché ho la testa perata, ma tutti gli altri re che i capelli ce l'hanno, perché se la mettono la corona? È evidente che la corona è stata inventata con un'altra motivazione, con un altro scopo, questo glielo spiegò il boia il giorno della rivoluzione, gli disse maestà io ho il cappuccio un testa e i buchi per gli occhi sono piccoli, non ci vedo tanto bene, la corona serve a me per individuare meglio la testa che devo tagliare.